allora dopo aver messo bene a fuoco qual è il diritto che regge quali sono le regole che reggono tutto il mondo del licensing di dati di banche dati più propriamente adesso possiamo passare appunto all'aspetto delle licenze in senso più più preciso e più tecnico in realtà adesso vi faccio una parte sulle licenze open in generale perché per arrivare alle licenze open per dati che sono un sotto insieme dobbiamo capire come funziona il licensing le licenze open in senso più ampio e quindi questa parte diciamo la trovate nei libri che avevo segnalato prima nel libro sulle creative commons quello con la banda rossa che vi ho mostrato prima nella introduzione e quindi le cose che vi dico adesso sono più che altro legate al mondo delle creative commons in senso più ampio però è importante mettere a fuoco alcuni alcuni principi alcuni fondamenti perché so che sul mondo delle licenze open girano varie leggende metropolitane voi siete un pubblico già abbastanza selezionato quindi non credo però visto che stiamo facendo anche un video che va al grande pubblico è meglio dirle certe cose allora abbiamo parlato di come funziona il diritto sui genes però la regola generale che non abbiamo detto è quella che trovate in questa prima riga ovvero che il copyright e anche il diritto sui genesi tutte le forme di proprietà intellettuale diciamo che stanno sotto la legge sul diritto d'autore sono delle tutele che scattano automaticamente cioè l'autore o in questo caso il costitutore della banca dati non deve fare nulla di preciso e non deve formalizzare nulla per avere il diritto il diritto scatta automaticamente con la creazione dell'opera quindi non è come nel mondo dei brevetti o dei marchi in cui il titolare deve andare all'ufficio brevetti o all'ufficio marchi per avere il suo diritto nel diritto d'autore nel copyright nel diritto sui genesi nei diritti connessi il creatore nel momento in cui ha completato la creazione dell'opera è automaticamente titolare di diritti non so se questa cosa l'avevate chiara però è fondamentale perché se noi capiamo questo concetto capiamo perché è necessario utilizzare delle licenze open cioè tutto detto in altre parole tutto è tutelato tranne ciò che non ha una licenza open oppure tranne ciò che non è caduto in pubblico dominio cioè io devo come utente considerare le opere che trovo in rete sempre come tutelate perché quasi sempre c'è un diritto d'autore no anche nel caso della banca dati che mi sembra che non sia stata più aggiornata ma solo perché loro hanno spostato il numerino hanno spostato il il copyright vi hanno detto che loro l'hanno controllata anche se non è mai non è mai stata cambiata ma loro hanno semplicemente controllato quello fa sì che ci sia un diritto quindi per una questione di prudenza e visto che c'è questo principio secondo cui il diritto dottore scatta automaticamente con la creazione dell'opera gli utenti dovrebbero in teoria astenersi da così sull'utilizzo che non sia espressamente autorizzato oppure essere sicuri che l'opera sia caduta in pubblico dominio allora se io devo fare una lettura di dello zibaldone di leopardi vabbè lì non ho problemi non devo chiedere il permesso ai parenti di leopardi agli eredi di leopardi perché leopardi è morto da più di 70 anni quindi viva dio il diritto d'autore è scaduto ma in tutti gli altri casi io dovrei in teoria astenermi e chiedere il permesso la regola è sempre quella del chiedi il permesso a meno che ci sia una licenza open una licenza che mi dà il permesso attraverso appunto questo disclaimer che compare sotto l'opera se poi ci fate caso la parola licenza senza essere dei grandi esperti di lingua latina licenza deriva da licere e licere vuol dire autorizzare quindi dove c'è una licenza vuol dire che c'è qualcuno che ci ha dato un permesso a fare delle cose quindi il non so colui che apre un bar un ristorante deve farsi dare la licenza per servire bevande per servire cibi e questa licenza viene data da un ufficio preposto in una pubblica amministrazione che fa quel lavoro nel caso delle licenze delle opere creative l'utilizzatore deve farsi dare la licenza cioè l'autorizzazione da il titolare dei diritti cioè da colui che ha i diritti che può essere l'autore a volte direttamente oppure se l'autore ha ceduto questi diritti ad una casa editrice ad una casa di produzione una casa discografica dovremmo andare a chiedere a questo soggetto imprenditoriale che è colui che ci darà l'autorizzazione non ci negherà l'autorizzazione le licenze open sono un modo per disintermediare questo meccanismo delle autorizzazioni cioè l'autore o il titolare dei diritti o altro titolare dei diritti libera gli utilizzi della sua opera mettendo una licenza che si chiama appunto licenza open quindi tuttavia i titolari del copyright che possono essere gli autori editori produttori costitutori di banche dati possono comunque scegliere di consentire la libera diffusione e modifica delle loro opere rilasciandole con apposite licenze chiamate licenze open tra queste le più note sono le creative commons se parliamo di opere creative in senso classico quindi musica video testi fotografie e via dicendo se parliamo di software le più note sono le licenze del progetto GNU quindi la GNU GPL la GNU FDL la GNU AGPL via dicendo sono quelle che vengono poi anche dette licenze open source più propriamente licenze di software libero e sono anche le più antiche nel senso che le creative commons sono arrivate nel 2002 cercando di riprodurre lo stesso modello delle licenze GNU che erano nate invece alla fine degli anni 80 quindi il diciamo la breccia nel mondo delle licenze open è stata aperta proprio dall'informatica dal settore software quindi le prime sono della capostipite che è la licenza GNU GPL nella prima versione risale al 1989 quindi il fenomeno dell'open licensing ha ormai più di 30 anni perché è 89 a 31 anni ok le creative commons sono un po' più giovani sono del 2002 quindi hanno quasi 20 anni ok e vabbè questa cosa in realtà ve l'ho già spiegata quello che c'è scritto in questa slide cioè perché è necessario mettere una licenza cioè non basta che io sono il titolare del diritto d'autore su un brano musicale e ho piacere che la gente utilizzi il mio brano liberamente non basta che io mette il mio brano online sul mio blog o sulla mia pagina facebook e non dica nulla no non basta perché il diritto d'autore è un closed by default quindi la gente che arriva sulla mia pagina web o sulla mia pagina facebook o sul mio account di soundcloud ad esempio dove si mette musica se io non gli dico espressamente attraverso una licenza che lui può utilizzarla liberamente lui non può non si sento autorizzato a farlo e quindi non ho davvero liberato l'opera essendo noi oggi in un evento che ha come principale spirito principale vocazione quella della condivisione di dati dovete ricordarvi che per fare open data affinché i dati siano davvero open ci deve essere una licenza open quindi l'open s non è solo una questione tecnologica se voi andate a leggere le linee guida sull'open data vi spiegano che c'è tutta una parte su rendere open i dati da un punto di vista tecnologico di metadattazione di formati ok verissimo non sono io la persona più adatta per parlarne già in quest'aula ci sono almeno due o tre persone più brave di me su questo argomento ma l'open s è anche una questione giuridica perché ci sia open s sul dato ci deve essere anche una licenza open dopo lo vedremo perché c'è una una slide sulle tratta proprio dalle linee guida sull'open data ecco una slide che io utilizzo nei miei corsi questo faccio la uso anche nei corsi nelle scuole superiori quindi la capiscono anche i ragazzi di 14 15 anni ovvero una metafora molto semplice per farvi capire la differenza tra licenza proprietaria licenza open cioè la licenza proprietaria nella metafora che io utilizzo quella del cartello all'ingresso di un parco no entrate in un parco comunale c'è sempre un cartello con le regole per entrare nel parco a quantomeno gli orari in cui potete entrare no e la licenza proprietaria è quella che vi dice che avete solo dei pochi permessi e tanti divieti quindi classico esempio avete un cartello che vi dice attenzione puoi entrare in questo parco dalle ore 9 alle ore 17 però non puoi portare il cane non puoi raccogliere i fiori non puoi fare il picnic e non puoi accendere fuochi ok quindi un elenco di divieti e quello è quello che succede nelle licenze proprietarie se voi andate avete un computer con installato windows che voi l'abbiate voluto o non voluto a volte computer cioè ve lo vendono con windows e non potete fare granché diverso perché vi costerebbe di più chiedere il rimborso della licenza piuttosto che pigliarvela e far finta di nulla se andate a leggere questa licenza di windows vi accorgerete che siamo esattamente in quel in quel campo lì c'è una licenza che vi autorizza utilizzare quella quella copia di windows che vi hanno venduto ma vi autorizza a farlo solo su quella macchina ad esempio il caso del computer che io acquisto al media world al troni e me lo trovo già bello confezionato imbeddato la licenza di windows è legata a quella singola macchina la pagate molto poco la pagate meno di quello che paghereste la stessa copia di quel sistema operativo se la compraste sul mercato dei sistemi operativi è una copia che è stata data in concessione a che ne so hp o asus per impacchettarla inglobarla all'interno dell'hardware però se leggete c'è scritto che quella copia è legata unicamente a quella macchina e avete anche dei vincoli che ad esempio è una licenza home edition e quindi alcune cose non potete farle non potete utilizzarla per scopi commerciali e via dicendo no quello è il classico esempio dall'altra parte abbiamo la licenza open dove il rapporto semplicemente si inverte il rapporto tra divieti e permessi si inverte nella licenza open prevalgono le libertà concesse i permessi concessi a discapito dei divieti quindi tornando alla metafora del parco del cartello davanti al parco colui che entra si troverà un cartello che dice sei benvenuto in questo parco puoi entrare liberamente a tutte le ore del giorno ricordati puoi raccogliere i fiori puoi fare il picnic puoi portare il cane giocare a palla ma ricordati che non puoi accendere fuochi perché in tutte le licenze solitamente qualche limite rimane anche le licenze open si lascia una parte relativa ai vincoli ai limiti nelle licenze gratis commos vedremo che salto di una slide volutamente che le licenze più libere stanno a destra di questa gamma di questa questa sfumatura di grigio dove il nero dalla parte di là a sinistra è tutti i diritti riservati del copyright del all rights reserved che trovate su qualsiasi cd dvd blu ray che comprate o libro dalla parte di qua c'è il pubblico dominio creative commos pubblico dominio che dice nessun diritto riservato eccolo qua in mezzo c'è tutta la gamma delle sfumature di grigio create artificialmente attraverso la licenza ovviamente a seconda di quanto il proprietario del parco è più o meno disponibile ad avere ospiti nel suo parco e autorizzare attività all'interno del suo parco sarebbe un po più di qua un po più di là la licenza gratis commos più libera è quella che dice sostanzialmente che puoi fare tutto quello che vuoi dell'opera a condizione che citi la fonte che citi l'autore originario la cosiddetta licenza by attribution ha solamente ti chiede solamente quello il resto sostanzialmente quasi simile a un pubblico dominio poi man mano che aggiungiamo clausole alle licenze andiamo verso ci avviciniamo verso il grigio verso la parte di là ho saltato una slide che però è un equivoco cioè ci tengo a sottolinearlo perché è un equivoco molto diffuso ripeto penso che in questa platea non ci siano persone che ci sono cadute però non si sa mai soprattutto per chi vedrà poi invece il video da youtube non mi cadete nella nell'errore abbastanza pericoloso che le licenze siano una forma di tutela le licenze non tutelano quante volte trovate la frase quest'opera è tutelata con licenza gratis commos è ovunque la trovate anche nei blog e invece è sbagliata è profondamente sbagliata perché un'opera non è tutelata dalla licenza l'opera è tutelata dal diritto d'autore non dalla licenza la licenza fa esattamente il contrario di tutelare fa un'attività di liberazione dell'opera quindi gli autori i musicisti soprattutto i musicistici cascano che applicano la licenza gratis commos pensando di tutelarsi hanno preso un granchio è come un vegano che va a fare la spesa del macellaio no cioè se sei proprio entrato nella porta sbagliata e purtroppo vi assicuro che questo equivoco è molto diffuso ma io mi sono tutelato ho messo una licenza gratis commos è bravo così adesso tutti possono utilizzare la tua opera liberamente quindi la cosa migliore che puoi fare lo so che sembra un paradosso a chi non ha seguito questo corso ma adesso credo che non ci cadere più però la cosa migliore che posso fare è non dire nulla paradossalmente cioè se non dico nulla ricado nel by default del copyright se invece metto la licenza e la vado a prendere tra le licenze gratis commos non mi sono tutelato ho liberato l'opera quindi chi utilizza le licenze open è pregato di farlo con consapevolezza di quello che sta facendo ok lo so che dicendo questa cosa molti cominciano a irrigidirsi no quindi ammetto che anche la stessa gratis commos nei primi anni non aveva molto comunicato con chiarezza con molta chiarezza questo questo concetto perché aveva un po come dire sfruttato questa inconsapevolezza degli utenti e invece è pericoloso perché molti utenti è successo poi che uno dei pochi casi che poi andato in giudizio in america sulla credit commos vedeva un fotografo che poi aveva fatto caso ad una casa editrice perché la casa editrice aveva utilizzato la sua la sua fotografia per la copertina di un libro è peccato per lui che la la licenza consentiva anche lo sfruttamento commerciale quindi si è fatto del male da sole poi oppure pagato gli avvocati quindi cornuto mazziato no direbbero a napoli e quindi attenzione quindi coloro che aprono avviano un progetto di un progetto ispirato alla condivisione di dati quindi un progetto open data sappiano che open data vuol dire liberare i dati e quindi utilizzare una licenza di queste vuol dire non tutelarsi ma a consentire che la comuni la community possa utilizzare liberamente questi dati quindi siamo arrivati alla alla terza parte se avete domande su questa parte su interrompo la registrazione se avete domande potete farle